La cosa che più mi irrita da cittadino e da consigliere comunale è che l'amministrazione Melucci, lo dico senza mezzi termini, in maniera non molto elegante, se ne strafotte assolutamente delle segnalazioni dei cittadini, non interviene anche laddove ci sono dei drammi, laddove si sono verificati dei disastri e stanno per ripetersi questi disastri. Andiamo al nocciolo della questione, mi trovo a Paolo VI in Piazza della Liberazione, vedete questa è la zona e questo è il terzo intervento che faccio, nonostante poi tutte le segnalazioni, a mezzo pecche, roba varia che sono state fatte, vedete qui quando piove si creano degli allagamenti paurossi, dei disastri ho detto poc'anzi, guardate e ora vi faccio vedere anche contemporaneamente quelle immagini allorquando si verificò l'allagamento, ci sono una serie di problemi che non solo non sono stati risolti, ma addirittura la situazione a causa di interventi idioti, strutturali idioti, hanno peggiorato la cosa. Guardate qui, qui ci sono le grate, quindi lo scolo delle acque, allora le grate devono essere sollevate di tanto in tanto per operare la pulizia al di sotto, la cosa assurda è che le grate sono state attaccate, blindate, chiamiamole così, sigillate con il catrame, per cui se io a un certo punto devo sollevare la grata per andare a fare la manutenzione, non posso farlo perché è sigillato, questa è la prima idiozia, evidentemente fatta da una ditta di 4 soldi di incompetenti che l'amministrazione comunale ha pure pagato, questa è la prima cosa. Poi guardate, mi sposto, le caditoie, vedete completamente ostruite, guardate qui, guardate qui abbiamo le caditoie, vedete quello che resta delle grate, quello che resta delle grate che sono completamente, guardate non c'è più nulla, magari ora ci mettono anche un po' di asfalto e poi buonanotte, ma la cosa grave è che qui c'è il canale, il canale che doveva appunto raccogliere le acque e portarle giù e far defluire le acque, il canale è completamente ostruito, completamente. Quindi quando piove si verificano gli stessi episodi gravi che le immagini del disastro dell'epoca vi stanno testimoniando, questo per assoluta inefficienza, strafottenza e menefreghismo dell'amministrazione Melucci, perché da quest'estate stiamo denunciando questa situazione, da quest'estate ci sono persone che abitano qui, dei condomini di queste villette, di queste palazzine a schiera, che non ne possono più, che si sono viste costrette a dover fare dei gradini artigianalmente pur di non vedersi invasi dalle acque, perché le persone che stanno qui si ritrovano inondati, letteralmente inondati, persone che a causa dell'inondazione sono cadute e hanno riportato danni fisici. Parliamo di inondazioni e non sto esagerando, inondazioni. Le immagini che vi sto facendo vedere vi dimostrano proprio in maniera chiara, inequivocabile, quello che sto affermando. Manutenzione, ripeto, zero, idiozia nei lavori, le grate sigillate, asfaltate, paralizzate, manutenzione zero e lo rifacciamo rivedere, questo è proprio il nocciolo, il clou della strafottenza, il canalone che dovrebbe essere pulito, rimane così, completamente ostruito. È chiaro che poi è tutto tappato, tappato qui, tappato lì, tappato lì e questo diventa un lago, diventa una conca d'acqua che va a invadere le case dei poveri, dei malcapitati abitanti. Allora, ditemi voi, pare che a dicembre mi è stato detto, ci sarebbe stata una sorta di controllo, pare, non lo so, che dei tecnici del comune siano venuti a vedere, ma che venite a vedere? Andate a fare disostruire lì, andate a pulire lì, prima ancora dei lavori strutturali che pure vanno fatti, benedetti Dio, nelle immediatezze, immediatamente dovete far aggiustare le grate, togliere questo vincolo, questo catrame che le blocca, svincolare le grate e poi tanto ci vuole a pulire quell'altra caditoia, tanto ci vuole e tanto ci vuole a disostruire il canale, il canale qui, guardatelo, guardate, sentitemi voi. Allora, quando io dico che questa è una città, non è amministrata male, non è amministrata proprio perché amministrare male già è un modo di amministrare, qui proprio lo zero assoluto, però ci si ricorda dei cittadini quando ci sono da pagare le tasse, lì tornano cittadini, prima sono persone che vengono prese per il culo dalla mattina alla sera dall'amministrazione Melucci e dai relativi uffici tecnici.